RIVIUTATE LE COSE MONDANE! CERCATE LA SALVEZZA NELLE FIAMME! RIVIUTATE LE COSE MONDANE! L'ho preso per esprimere la mia devozione a Dio, era un'occasione per starvi più vicino. Perchè la divinità era perfezione, anche rappresentarla aveva qualcosa di divino. Sembrava un lavoro virtuoso, una forma di preziene, di generazione. E se gli altri, comprando le mie opere, gli avessero colto una traccia di Dio, e così mi credevo un altruista, un ciascimone, un predicatore, una guida per coloro che avevano perso la fila. Ma in realtà... Stanno sbagliando. Il diavolo... Non lasciatelo scappare! Molte sono le tue manipolazioni. Ma in verità erano forti. Forze che consentivano alla sua nefasta influenza di entrare nel nostro mondo. La mia arte non comportava la gente, ma anche l'avvelenava. La rendeva lastiva, avida e immorale, mentre prima non lo era. Io ero stato ingannato. Ma ora... Ho l'occasione di riparare. Di rimediare al danno che ho fatto. Io prego che vi uniate a me! Liberatevi dell'inganno e della corruzione! Rinunciate alle vostre opere blasfeme! L'inchiostro e tela evocano il desiderio che dà vita a gelosia e rabbia. Distruggeteli! Sopprimete queste emozioni! E esse sono pericolose! Dedicate tutti voi stessi a Dio e al suo profeta Savonarola! Rinunciate a ciò che vi distoglierebbe dalla retta via! Rifiudate le cose mondane! Cercate la salvezza nelle fiamme! Il cappuccio! Grazie a tutti! L'edio del Vendamero! Tornavo! Mi piace! Sì, me la devi! E' un po' e lo canziano! 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 Il Vendamero! La cosa è che non ci credo! Io per me lo canziano! Non ci credo! Non ci credo! Anche non fate finta di... Sì! Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Non eri padrone di te stesso. Ma lo ero. Il mio dubitare gli ha permesso di legarmi a sé. Mi dispiace. Anche a me. Non è una scelta che compio a cuor leggero. Requiescati in pace. Anche a me. Anche a me. Anche a me.